Una vita, trame spagnoli, svelato il segreto di Simon Gagliarre. Le anticipazioni ci rivelano che il maggiordomo del colonnello Arturo Valverde cercherà di scoprire qualcosa sul suo passato. Bene ritrovati con un nuovissimo appuntamento dedicato all'appassionante telenovela spagnola Una vita sempre ricca di colpi di scena inaspettati. Vi anticipiamo che negli episodi, che andranno in onda sulla rete Ammiraglia Mediase tra qualche mese, scoprirete il segreto del maggiordomo del colonnello Arturo Valverde, stiamo parlando di Simon Gagliarre. L'arrivo di nuovi personaggi ad Acacias 38. Se non avete avuto modo di vedere questa sua app in questo periodo, vi ricordiamo che verso la metà del mese di gennaio 2018, i telespettatori hanno fatto la conoscenza della famiglia Valverde, composta dalla figlia Elvira, e dal padre Arturo, quest'ultimo dopo essersi trasferito nel vecchio appartamento di Rosina Rubio, ha assunto come maggiordomo un giovane ragazzo chiamato Simon Gagliarre. Che in precedenza aveva impedito alla bellissima Elvira di togliersi la vita nel corso di una festa da ballo. In seguito Simon è iniziato ad avere uno strano atteggiamento, perché ha osservato la fotografia di una misteriosa donna bionda, nella sua stanza. Simon alla ricerca della madre Come vi abbiamo raccontato negli articoli precedenti, nelle puntate che vedremo in Italia la prossima settimana, Simon Gagliarre dimostrerà di essere molto coraggioso, perché affronterà tre malviventi durante il ricevimento di brindenuto del suo padrone, Purtroppo durante questo scontro il maggiordomo resterà ferito. Successivamente scopriremo che Simon non si è trasferito alla caccia Strentotto senza un motivo preciso, ma per scoprire qualcosa sul suo passato, in particolare quest'ultimo dopo essersi innamorato di Elvira, chiederà alla domestica Fabiana se qualcuno dei residenti nel quartiere spagnolo ha vissuto a San Sebastiano. In seguito Simon dopo aver notato un oggetto proveniente da Santander all'interno del negozio della Sarta Susana, inizierà a pensare che la commerciante potrebbe essere la persona, che sta cercando da molti anni, a quel punto, il maggiordomo per chiarire i suoi dubbi, chiederà all'anziana donna se in passato si è separata da suo figlio. Purtroppo la nonna di Victoria, per non essere smascherata, farà credere a Simon di aver ricevuto il souvenir dal figlio Leandro. Per finire vi comunichiamo che il maggiordomo di Arturo Valverde, non si arrenderà, perché farà di tutto per scoprire la verità. Se volete sapere altre notizie su questa vicenda, non perdete le prossime anticipazioni. Grazie a tutti.